E ti ringrazio, ti ringrazio davvero tanto, sento che sarà una bellissima esperienza. Sono prescollate sul tuo cuore, depresse, depresse, sono più di cose e con più problemi di amico. Siamo Laura Giacone e Paola Rossini. Avremo tenuto la mancia, perché lo fai tanto con la democratica e tagli il lavoro a lei. Io l'ho fatta prima al pacchetto, dagliela tu. Non finirà a dire, non prova così sterzi, non è finita cosa. Ah, non me lo ricordo, c'è soltanto per l'ultimo compiato, le tante luce sono postate in più della volta. Mi piacerebbe conoscerla meglio. Poi mi dice, la versita, chiudi il gas e vieni. Cino Paoli, briagone. Ma guarda, guarda come c'è la luce. Ma perché l'avete fatto bene così? Cioè, per meravigliarsi che siamo venute su così e felicitate. Ah, perché noi siamo equilibrati. E' un uomo veramente in gamba, veramente dolce, veramente bello. con una bella posizione. Poi passa il tempo e ti ritrovi a guardare il cielo e dire, Signore, ti prego, mandami un bambifero qualsiasi. E lui c'è come una fetta di pizza, che quando è buona è buona, ma anche quando è cattivo è buono lo stesso. Non hai ragione. E' buona anche quando è fretta e setta. C'è ancora l'affetto delle bianche? Eh, altro che... E' paura, ma allora ci potrebbero da dire. Ci potrebbero da dire, Gianchi. E' contenta che ci siamo ritrovati perché voi mi avete invitato vita. E la luna bussò alle porte d'orguglio, fammi entrare, tu risposi di no. Ma hai fatto tanto male, io ho pianto tanto, non sai quanto ho sofferto. E invece tu un pomeriggio a una festa a casa d'Annalisa, perché sta Anna Lisa? Anna Lisa e lo stagno, altra bella zoccola. Avete guardato a fare dei cassetti, degli armati, sotto i letti, ma perché in vacanza si sa con che cosa si parte? E non si sa con il pallone. Grazie. 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 Grazie.